Salve ragazzi, bentornati nel mio canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, un bacione grossissimo e una buona domenica perché oggi è domenica. Allora oggi c'è una bellissima giornata, io stamattina mi sono alzata e sono andata a Lidl, ho fatto la spesa là. Comunque ho preso 4 cosine così tanto per farvi vedere, ho preso una paella già pronta, poi ho preso 2 insalatina capricciosa perché stasera volevo fare i panini con i giustel alla piastra e mettere questa insalatina. Poi ho preso un pesto alla genovese della Baresa del Lidl, questo qua è pure buono. Poi ho preso 2 broccoletti, questi qua fatti bolliti con limone. Poi ho preso una maionese calvè, io uso sempre questa maionese qua perché non la batte nessuno. Poi ho preso la curcuma che mi era finita, questa qua la curcuma. Poi ho preso questi elasticini qua che sono un amore, noi abbiamo i capelli lunghi, io e Simona e ce le dobbiamo legare sempre quando cuciniamo, quando mangiamo e ce le togliamo solo questi nodini quando dormiamo, infatti ho il pinzettone. Poi ho preso questi qua che sono carini e che te lo metti a forza quando ti manca la pinza ti attacchi un nodino. Poi ho preso queste pezze qua ragazzi, queste pezzette, io mi ci trovo abbastanza bene perché sono come le bilet originale, sono ottimissimi, infatti voi vedete nel video che a forza ce l'ho verde. Arancione non l'ho avuta, l'ho sempre verde. Questi qua sono i panni del Lidl. Ragazzi sono eccezionale veramente, anche per gli specchi. Poi ho preso queste pezzette qua che sia per pulire il bagno, sia per pulire i mobili. Questi qua sono veramente ottimissimi e sono belli colorati. Poi ho preso il diffusore per le mani, quando arriva il mobiletto facciamo il video, lo mettiamo nel mobiletto nuovo. Poi ho preso le clementine, ragazzi quest'anno è la prima volta che le assaggio, clementine. Poi ho preso un sacchetto di patate, un sacchetto di patate e poi ho preso questo qua, che è il vicinetto natural power. Questo, ancora devo vedere il profumo che fa. E poi ho preso, che poi vediamo nel video di pulizie, il coso per mettergli la spazzatura. L'ho preso in acciaio, così mi adatta benissimo alla mia cucina. Comunque ragazzi, oggi è domenica, ora vado a fare la pasta con sugo e salsiccia, per oggi mangiamo questo. Stasera, stasera, stasera vorrei fare, lo stavo dicendo in siciliano, stasera vorrei fare i panini con la piastra, con i brustelle e con questa insalatina qua, che vengono stras buoni. Oggi la giornata è libera, perciò l'intervieta. Un bacio ragazzi, ricordatevi l'iscrizione al canale, campanellina, commentino, consigli sempre, date consigli. Se vi piace la mia spesa, è piccolina la mia spesa di oggi, però io ho deciso di condividerla con voi. Un bacione grossissimo e ci vediamo nel prossimo video di pulizie. Ciao ciao!